È stato uno dei nomi più caldi di questa sessione di calcio-mercato, ma ora sembra che finalmente Edinson Cavani abbia trovato una nuova casa. Stando alle indiscrezioni raccolte dal giornale francese L'Equipe, infatti il PSG avrebbe raggiunto un accordo con il Napoli. Il club francese sarebbe disposto a pagare la clausola recissoria di 63 milioni di euro e spianerebbe quindi all'Uruguagio la strada verso Parigi. Si era parlato anche di un possibile trasferimento in Premier League al Manchester City per l'attaccante 26enne, ma ora però sembra molto più sicuro che Cavani possa raggiungere le tantissime stelle già presenti al Parco dei Principi. E con Cavani verosimilmente fuori dai giochi, il Manchester City sposta le sue attenzioni sulla cattura dello spagnolo Alvaro Negredo. Il City, che ha già acquistato dal Sevilla Jesus Navas per quasi 20 milioni di euro, dovrebbe fare un'offerta per il suo ex compagno di squadra nelle prossime settimane. Sull'altra sponda di Manchester, quella rossa invece, anche lo United ha gli occhi su uno spagnolo, il centrocampista del Barcellona Tiago Alcantara. Sembra infatti che David Moyes, neoallenatore, abbia pronto un'offerta di 17 milioni di sterline per il giocatore 22enne, anche se sembra difficile che l'accordo si trovi prima della partenza dei Red Devils per il tour pre-stagione in Asia. Il Tottenham invece ha già trovato il suo uomo, completando sabato l'operazione da 17 milioni di sterline che ha portato in Premier League il centrocampista brasiliano, paolino. Il 24enne è stato uno dei migliori giocatori del Brasile che ha trionfato lo scorso mese in Confederations Cup. E ora preso paolino, gli Spurs puntano a rafforzare l'attacco e gli occhi sono puntati sull'attaccante dell'Aston Villa, Christian Bentequet, per il quale sarebbe pronta un'offerta da 20 milioni di sterline. Il Liverpool invece, persa la chance di acquistare Mkhitaryan, potrebbe prendere in considerazione un ritorno glorioso. Le indiscrezioni infatti sembrano puntare ad un ritorno ad Anfield per Xabi Alonso, che era partito nel 2009 in direzione Real Madrid.